Un servizio che si apre al territorio e si inserisce in una vera e propria rete dedicata al settore delle auto elettriche, un comparto in crescita, quello della mobilità di questo tipo, in cui la ricerca e gli investimenti sviluppano progressi e innovazioni all'ordine del giorno. Tra questi spicca la necessità di promuovere punti di ricarica in modo capillare e di impegnare al meglio il tempo necessario in un contesto di promozione e crescita del territorio, Armando Cipriani, responsabile dell'hotel-ristorante Il Poggio di Montenero di Bisaccia, ha voluto scommettere su questa iniziativa, accogliendo il progetto nazionale della Repower denominato R101. Il progetto R101 parte dall'idea di risolvere problemi di chi ha un'auto elettrica, quindi con i tempi di ricarica che le auto hanno necessità abbiamo pensato di costituire in Italia un circuito che al momento prevede l'adesione di 300 strutture ricettive, vogliamo arrivare a mille, dove l'utente attraverso Google Map, attraverso App può individuare il luogo dove soggiornare, dove pranzare e dove poter tranquillamente ricaricare la propria auto elettrica. La struttura Il Poggio ha voluto appunto installare un nostro strumento di ricarica per la mobilità elettrica per cominciare a offrire appunto dei servizi. È un punto di partenza per sviluppare la mobilità elettrica anche nel Molise, anche nell'entroterra. La palina per la ricarica delle auto elettriche è stata inaugurata nell'area parcheggio della struttura di Contrada San Biase. Qual è il trend delle auto elettriche e quali possono essere i vantaggi di questo tipo di acquisto? Il trend è sicuramente positivo, dobbiamo dirlo. I vantaggi sono diversi, dall'ecoincentivo statale si arriva fino a 10.000 euro tra sconto e ecoincentivo e poi ricordiamo inquinamento zero, emissioni zero e oggi con una ricarica di circa 2 euro si riescono a percorrere 350 chilometri. È semplice ricaricare? Sicuramente è semplice, lo possono fare tutti e anche come i tempi di ricarica non sono diciamo elevati i tempi. Entusiasta è il titolare dell'attività che rinnovando il suo impegno in un contesto di accoglienza e ricettività presente in una zona piena di risorse culturali e paesaggistiche ha ringraziato tutti coloro che hanno condiviso il progetto innovativo. Abbiamo voluto investire sulla palina per ricaricare le auto elettriche perché crediamo fortemente che sia il futuro della mobilità su gomma e soprattutto anche per dare un fiore all'occhiello a questa splendida struttura di Montenero e quindi aumentare quelle che sono i servizi e le capacità della struttura. Questa è una zona strategica? Certo, una zona strategica perché se lei pensa che siamo a soli 4 chilometri d'autostrada e quindi facilmente raggiungibili e che sull'autostrada non ci sono paline per la carica delle auto e facilmente immaginabili che qualcuno dovrà venire.